Oggi è la ricorrenza di San Nicola di Bari, uno dei santi più famosi di tutta la storia. Nato nell'odierna Turchia, Nicola perse i propri genitori per un'epidemia di peste, ma ereditò tutto il patrimonio. Al contrario di quello che avremmo fatto noi, cioè correre a comprare dei cappotti di visone o uno yacht da 50 metri, Nicola usò tutti i suoi soldi per aiutare gli altri, soprattutto i bambini. Infatti, San Nicola divenne il santo protettore dei bambini ed è lui che ha dato origine al mito di San Nicolaus, cioè Santa Claus. Insomma, il Natale, io che faccio questi video così con questa barba, voi che li guardate, tutta colpa di San Nicola.